Un cordiale saluto a tutti amici da Stefano Ghetti. La situazione meteorologica non sembra cambiare nei prossimi giorni. L'Italia continua ad essere interessata da una fase di tempo molto instabile che si protrarrà sicuramente per tutto il resto della settimana e anche per gran parte del fine settimana quando arriverà l'ennesima perturbazione. Intanto una nuova perturbazione transita nella giornata di mercoledì apporterà a condizioni di forte instabilità al centro nord, perturbazione che poi lentamente si sposterà poi verso sud. Il tempo poi andrà migliorando nella giornata del primo maggio al centro nord e se tanto mi dà tanto quella del primo maggio potrebbe essere in effetti la giornata migliore della settimana. Intanto guardiamo le temperature che subiranno una nuova generale flessione nei valori massimi a causa appunto del transito di questo nuovo impulso perturbato e poi come ho detto giovedì ecco che la perturbazione abbandona gradualmente l'Italia, il tempo migliora un po' su tutte le zone, teniamo sempre presente un po' di instabilità specialmente nelle ore pomeridiane a ridosso dei monti e poi ecco che venerdì arriva una nuova perturbazione che probabilmente comprometterà su gran parte d'Italia un po' tutto il fine settimana ma avremo modo di tornare nei dettagli nelle prossime edizioni. Intanto mi fermo qui amici, grazie per essere stato in nostra compagnia, l'appuntamento è a più tardi.